Partiti all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze le lettere di sospensione per i sanitari del presidio non vaccinati. A renderlo noto la stessa azienda ospedaliera universitaria, specificando che la campagna vaccinale ha riscosso una altissima percentuale di adesioni da parte del personale, tanto che risultano al momento solamente 10 gli operatori che non sono immunizzati, secondo gli accertamenti dell'azienda AUSL, a fronte di oltre 1.500 dipendenti. Si tratta, nella quasi totalità dei casi, di infermieri per i quali è stata subito richiesta a Estar la sostituzione a tempo determinato. La scelta della linea dura nei confronti di chi ha scelto di non immunizzarsi è una decisione obbligata, anche perché è prevista da un decreto legislativo. La direzione sanitaria ha comunque previsto un colloquio con il medico competente per un ultimo tentativo di persuasione. Per tutti gli operatori che sceglieranno di non vaccinarsi, la sospensione del lavoro avrà effetto immediato. Per gli operatori invece che hanno trasmesso certificazione sanitaria, sono 14, è in corso una valutazione da parte di apposito collegio medico istituito presso l'azienda AUSL. Per gli operatori che sceglieranno di non vaccinarsi, sono 14, è in corso una valutazione da parte di apposito, è in corso una valutazione da parte di apposito, è in corso una valutazione da parte di apposito. Per gli operatori che sceglieranno di non vaccinarsi, è in corso una valutazione da parte di apposito.